controlli allora ok gas tanto freno un pochino allora vai non è per niente facile ok allora guarda la macchinina gas oh ottimo questo ok ok e te lo faccio non lo sai i controlli della macchina ti ha aiutato rimani così non lo sai se te lo aziono vai contro stenza mi fregare aspetta 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 va bene benissimo freda non lo senti lo disinneschi immediatamente lasciamolo un po' andare lasciamolo un po' andare ecco allora quando l'hai avuto di più hai chiesto più sterze invece me lo devi togliere ok vai di nuovo è più stretta che c'è la vernice è un po' più stretta che c'è la vernice ok ok continuo guardando dentro adesso adesso e adesso non manca gas togno gas gas purgher purgher 10-0 progressivo progressivo ok ok gira adesso quando è avvicinato per la macchina viene a portare gira all'altro della corda guarda qua guarda qua guarda qua e adesso gas togno gas dolce dolce gas guarda l'interno la porra guarda l'interno la porra non dare gas